Abbiamo fatto finta di niente troppo a lungo e poi ci siamo accorti che stava diventando tardi Forse possiamo ancora tornare indietro, riappolgere il nastro Resistere e proteggere quello che ancora possiamo salvare Riconnettere tra loro le aree protette d'Italia Restaurare gli habitat che abbiamo contribuito a distruggere Riportare in natura specie che stanno scomparendo È quello che facciamo da sempre Ma oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto Grazie a tutti